L'ultimo giorno del mese di novembre la Chiesa celebra la festa di Santo Andrea Apostolo. Gesù vede questi due fratelli lungo il mare di Galilea e li chiama «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Per seguire il Signore è necessario lasciare qualcosa che si faceva prima. «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Pescatori di pesci loro lo erano già. Ma Gesù li chiama a diventare pescatori di uomini. Leggiamolo questo Vangelo, voi ascoltatelo e poi vi dono un'altra parola di commento. Intanto ci segniamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. «In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi, subito, lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme al loro padre, riparavano le reti e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre lo seguirono. Parola del Signore. Ecco, ciò che è importante in questa pagina di Vangelo, oltre alla chiamata, è quel subito. Tutti e quattro i discepoli, subito, lasciano ciò che stavano per fare, o stavano facendo già, e seguono Gesù. Non lo conoscono, non sanno chi è, ma questo invito gli brucia dentro, li convince a lasciare tutto e a fidarsi ciecamente. Questo è il segreto. O ci fidiamo, o non ci fidiamo del Signore. O diamo credito alla Sua parola, o non lo facciamo proprio. Non possiamo stare lì a tergiversare, a giocare, ad essere indecisi. O ci fidiamo di Lui e ci gettiamo a seguirlo, oppure lasciamo perdere, che è meglio. Perché un discepolo, un apostolo, un prete, un cristiano, tiepido, non serve a niente. Bisogna essere decisi. E allora che cosa significa essere pescatori di uomini? Sappiamo che qui si riferisce, no, ai discepoli, agli apostoli, ai consacrati in modo particolare. Ma si riferisce ad ogni cristiano, ad ogni credente. Essere pescatori di uomini significa saperli catturare. Allora, quante volte abbiamo sentito, ma quel prete è così bravo che cattura l'attenzione. Quel prete è così speciale che non puoi fare a meno di seguirlo, di ascoltarlo, di dargli ragione. Ecco, voi non seguite nessun prete. Voi seguite quello che quel prete vi sta dando, Cristo Gesù. E' il Signore che ha messo nel suo cuore quel dono e Lui lo coltiva ogni giorno sotto la luce dello Spirito Santo così da catturare le anime. Ora vi lascio con una domanda. E voi, quante anime catturate, fermate, bloccate? Buon cammino e buona missione a tutti!